Ma f***o che è successo? Che è successo? Ok, ok, oh, dove... Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Paranormal P, iniziamo subito. Ok ragazzi, sto riprovando. Stavolta però esploriamo altri ambienti della casa, perché mi sa che non sta solo in garage. Vediamo con l'EMF se sta in qualche altra zona. Aspetta, non ci spaventiamo, qui è un falso segnale. Quindi lui principalmente sta in garage, ma non solo. No raga, mi sono buggato. Ok, lui principalmente sta in garage. E noi l'abbiamo notato con il sensore della temperatura. Non so dove cercarlo. Il bastardo non mi dà neanche un indizio. Questo è un falso segnale? Sì, c'è la presa di corrente. Eeeh, c***o, eeeh, dove, dove, dove lo trovo il bastardo? Vediamo in giardino. Dai però non mi fare aspettare tre ore. Vuoi manifestarti? Fallo. La temperatura rimane invariata? Torniamo in garage, non lo so. Ma come faccio a trovarli? E raga, io ho più di, di camminare con gli strumenti. Non, non so che fare. Proviamo a spegnere la torcia? Possibile che sia questo il problema? Raga, sto al buio da tre ore e non è successo nulla. Ho capito che devo avere tanta pazienza, però stiamo un po' esagerando. Cioè? Ah, giusto, sempre falsi segnali. Eeeh, vabbè raga, abbiamo risolto il problema. Non esiste più un fantasma in questa casa. Se n'è andato da solo? Raga, ma è possibile che ogni tanto sento un lamento? Facciamoci in giro con le M e F. Oh! Sempre falso segnale, mannaggia. Ah! Ma secondo me lo spirito si sta nascondendo, raga. Non si fa trovare. Ma vuoi vedere che ho sbagliato casa? Mi fa andare alle altre case? No, non mi fa andare, quindi che cacchio vuoi? Oh! Raga, c'è stato un cambio di temperatura. Dai, vuoi vedere che l'ho perso? Cazzo, però... Allora, se ci sei, batti un colpo. Raga, che devo fare più... Ti chiedo una cosa. Uno sbalzo di temperatura. E dai! Oh, raga, raga, raga! Eccolo, 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 eccolo. E dai! Sta qua, sta qua! Oh! Ok, primo step... È fatto. Il cambio di temperatura c'è stato. Tra poco mi sa che sentiamo un colpo, raga. Io metterei l'audio recorder. Questo tra poco fa un rumore. Vabbè, sto facendo giusto una domanda per provocarlo. Vedi, tanto non risponde. Raga? C'è qualcosa che non va qui con la temperatura. Sta cambiando molto spesso. Sei qui? No? Sei qui? Raga, sta iniziando a giocare con noi. Il che mi sta facendo cagare sotto, però... Cerchiamo di procedere. Ma quindi si sposta? Possibile? Raga, prendiamo il registratore. Io sono sicuro che tra poco sentiremo un colpo. Usiamo un po' le MF. Beh, però dimmi che c***o devo fare perché non ci sto capendo più nulla. Qua ormai sto ricevendo solo falsi segnali dalle prese di corrente. Oh? Ah, giustamente, un altro falso segnale. Che bello! Ma che stiamo con la temperatura? Sempre gli stessi valori? Rimango un po' al buio, che dici? Ti vuoi convincere a manifestarti, porco il c***o? Ma vi immaginate vediamo qualcuno lì in fondo che si muove? No, io chiuderei il gioco perché, raga, queste cose fanno paurissima. Vabbè, però... No. Te ne do 5 euro. Vuoi manifestarti? Te ne do 10? Te ne do 15? 30? 50? Quanto vuoi? Quanto vuoi? Ti prego, batti un colpo. Io non lo so, dà fastidio la torcia, eppure l'ho levata. Io, comunque, con la temperatura, già ho avuto la prova che c'è qualcosa di strano. Mi faccio un giro per casa? Come vuoi. Aspetta, vediamo un attimo. Oh, oh! Cos'è una bambola? Raga, aspettate che ho visto. No, è un ombrello. Dove ho visto una bambola? Cazzo di paura. Non è che lo vediamo da una finestra, magari? Sarebbe spaventosissimo. Vediamo un po' la temperatura qui. Dai, non voglio abbandonare l'investigazione proprio ora. Me lo sento che c'è qualcuno, però dammi una mano. Raga, tutto questo tempo... Non mi ero reso conto che sta un semainterrato. Oh, cacchio. No, allora mi sa che sta qua, raga. Vabbè, qui siamo vicino al contatore. Quindi è normalissimo che abbiamo questo segnale. Oh, raga. Falso segnale, va a f***lo. Vediamo la temperatura qui. Non penso che stia qui, raga. Non dà segnali. Facciamo giusto una domanda con l'audio recorder. Niente. Saliamo. Allora, poco è cambiato. In pratica... Non si è ancora manifestato. Ma io che cavolo devo fare, scusa? Sto camminando come un imbecille da tre ore. Chiudiamo le porte, guarda. Anche questa del garage. Vediamo se stando al buio, è chiusi, succede qualcosa. Resto un po' fermo. Cazzo devo fare, porca t***a. Scusa, ma prima non facevi rumore. Ora neanche quello. Sei proprio scocciato. Raga, questo non sta più in garage. Io non so dove beccarlo. Che stai qua in bagno? No. Dimmi tu dove cavolo ti devo venire a pescare. Non è che c'è una stanza segreta che ancora non ho scoperto? Ormai non mi stupirei di trovare altre stanze. Oh, mi sono bloccato. Ma veramente finisce così l'investigazione? Vedete, lo dice anche qua. Dopo uno sbalzo di temperatura, solitamente c'è un evento, un'attività, e poi dopo ci dovrebbe essere un segnale all'MF. Mi impressiono sempre per sto frigorifero di m***a. Ah, no, senti, mi sto iniziando a nervosire. Quindi è meglio che ti sbrighi, fai qualcosa, batti un colpo. Cos'è qua? Un'altra presa di corrente? No, è un'altra presa in giro. Ah, è possibile che sei qui in giardino? Non lo so, che vuoi giocare? A palla? Ormai potrebbe essere anche vicino a me. Far salire i valori dell'MF non gli crederei. Ah, secondo me questo livello è uno scherzo. Boh, raga, veramente è una cosa impressionante. Io che devo fare ora? Raga? Ok, raga, 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 raga. Raga, stiamo attenti perché ora potrebbe esserci qualche attività. Stava scritto prima nella descrizione. No, però raga, sta diventando ridicolo, dai. Sto letteralmente da 30 minuti e ancora deve succedere nulla. Oh! Fan cu- Raga, raga, ci sta. Raga! Perché non accende il registratore? Accendi il registratore! Dai. Giusto un altro colpo, ti prego. Un altro. Magari ora l'MF rileva qualcosa? Ovviamente ora non c'è più. Eeeh. Prendo gli strumenti che mi servono e il fantasma se ne va. Va bene. Mi sta facendo sentire uno schifo. Raga, uh, uh, registratore. Perché non accendi il registratore, c***o? Ma fa- Che è successo? Che è successo? Ok, 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 oh, dove- Che è successo? Che è successo? Ok, ok. Cos'era? Solitamente quel rumore lo fa quando appare. Ok, quindi siamo riusciti a registrare qualche rumore inspiegabile. Ci manca l'MF. Solitamente, dopo un'attività, si rileva anche un picco nell'MF. Quindi stiamo attenti. Oh, oh, raga, raga. Qualche apparecchio? No, raga, è qui. Ma perché il tizio non se ne rende conto? Solitamente lo dice quando c'è qualcosa di strano. Che è? Che è successo? Oh! Registra. Sta succedendo. Oh, che è successo? Sono riuscito anche a registrare i valori dell'MF. Perfetto. Raga, è tutto come nella descrizione del Poltergeist Ghost. Allora, non so se lui si fa vedere. Oh! L'ho catturato. Wow! Perfetto, tutte le informazioni che mi servivano. Vediamo giusto due secondi se combina qualcos'altro. Oh, ancora? Ora basta. C'ho i brividi. Ah, basta. Forza. Ora basta. Ok, io penso che non faccio altro comunque. Io vado. Ok? Ci sentiamo? Molto soddisfatto di questa investigazione. Abbiamo avuto tutte le prove che volevamo. MF. Ah, con le MF potevamo fare qualcosa in più, effettivamente. E anche con l'audio. Però dai. Va bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. iscrivetevi al canale. - - - Grazie a tutti.